Questo programma contiene linguaggio volgare, scene e riferimenti sessuali dall'inizio alla fine. Jody Show Ray Ray! Non so cosa succederà tra lui e me, ma ho bisogno di parlare con lui perché prima ci chiariremo, meglio sarà. In fin dei conti, tu e io ci piacciamo a vicenda, no? Le relazioni sono difficili, credo che a volte siamo a non restare da soli, essere singoli. Quindi ciò che stai dicendo è che non c'è tensione tra di noi e possiamo proseguire così? Ci stiamo conoscendo, no? Siamo amici? Sono felice che Chloe e io abbiamo parlato perché ci siamo chiariti. Chloe ha tante qualità ed è una brava persona, ma deve credere un po' di più in se stessa. Stai malissimo, è un costume orrendo, non lo sopporto, te lo strapperei. Non mi sta bene? Te lo dico, James, me la sto facendo sotto. Non hai niente di cui preoccuparti, hai fatto così tanta strada, amico. Ragazzi, non state così vicini. Sono nervoso, ma avere questi due al mio fianco è il sostegno migliore che potessi avere. Non potrei farlo senza di loro. Io non sono preoccupato, siamo il massimo del massimo. Qua la mano. Esatto. Ai pulmoni di Newcastle. Sì! Ci siamo, signore e signori, ragazzi e ragazze. Voglio presentarvi i sensuali, i fenomenali, gli eccezionali... Boys of Dream! Quei tre sembrano un branco di scemi. Siamo pronti? DJ, metti la musica! Sto morendo dal ridere. James è fuori tempo! Porca miseria, James, ma non hai fatto le prove? Ci siamo. Preparatevi, ragazze. La mossa chiave di James sta per arrivare. Non si strappano! Oh, cavolo! Non riesci a togliersi lì! Ma non ci credo! Ma perché non si levano? Che capo! Non riesco a credere di aver sbagliato davanti al capo. Ma so come recuperare. Vieni! 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 L'hai fatto, ragazzi! Avete fatto un ottimo lavoro! La nostra esperienza della casa non sarebbe potuta finire meglio. Abbiamo davvero chiuso in bellezza. Ma è ora di concludere la festa a casa. È stato emozionante ed è stato assurdo, ma ora dobbiamo andare. Buonanotte! Grazie a tutti! Buonanotte! 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 Ragazzi, questa sera, contro ogni possibilità, la nostra è stata una delle feste migliori che ci sia mai stata a Newcastle. C***o! E che finale incredibile per queste esperienze. Sì, una festa incredibile. Sapete una cosa? Sono così felice che mi abbiate vista nel mio elemento. Amelia, sei una macchina da guerra quando canti, te lo dico. Sì, è stato molto divertente. Sì! Siamo stati bravissimi. Sì!